Vanno indelebili nella testa, nella carriera e nel cuore di questo ragazzo triestino. Palla battuta dentro da Bertoni, occhio allo stacco di Pesenti, segna la Propatria quando iniziava già a pensare al domani probabilmente la triestina. Pesenti accorcia le distanze, Max Pesenti, Propatria che vuole divertirsi in questo finale, come detto mancano poco più di due minuti, ricordiamo che il pareggio non basterebbe.